Realizzate il vostro sogno, alla grosso vacanza è possibile. Alle mie spalle il Volkswagen California Ocean Auto Caravan, omologato per il trasporto di 4 persone, 4 posti a dormire. Il veicolo è stato immatricolato ad aprile del 2018, ha percorso solo 20.000 km ed è un 4Motion, 4 nuvolte motrici, cambio automatico. E può essere il vostro a solo 62.500 euro, con un risparmio superiore ai 10.000 euro. Venite a provarlo, vi aspettiamo.